Sì, io ho avviato la registrazione e se siete d'accordo comincerei subito. Presentandovi il nostro relatore di oggi, che sono davvero molto felice di accogliere e che ringrazio molto. Grazie Massimo. Massimo Leone, professore ordinario di studia della comunicazione e semiotica della cultura qui all'Università di Torino, ma anche all'Università di Shanghai, in Cina. Mi ha preceduto per tanto tempo nella carica di presidente del suo laurea magistrale in comunicazione e cultura dei media, editor in cifra dell'Università della rivista semiotica internazionale, del gruppo semiotico torinese e attualmente anche della prestigiosissima rivista internazionale semiotica. Ha svolto attività di visiting professor presso una quantità innumerevole di università in tutto il mondo, quindi veramente nei cinque continenti, e attualmente è visiting a Parigi presso un istituto di Advanced Studies. Dunque, si è occupato, la sua ricerca tocca veramente molti ambiti, si sta dedicando alla semiotica del gruppo, l'ambito di un prestigiosissimo progetto europeo finanziato dallo European Research Council, che si chiama FACES, e però ha dato anche un contributo davvero molto importante al campo che possiamo definire della semiotica della religione. si è occupato di vari aspetti della cultura religiosa, dalla santità al fondamentalismo, a questioni che invece riguardano piuttosto l'iconografia. Tra le sue pubblicazioni che toccano questi aspetti, ricordiamo Semiotique de l'Homme, un'opera veramente monumentale, Saints and Signs, e ha scritto anche molte opere sul tema del velo. Io non gli ruberei altro tempo, vi ricordo solamente che oggi ci parla del volto allo specchio, riflessi e speculazioni dell'autobiografia spirituale. Ancora grazie Massimo, e prego ti passo subito la parola. Ti ringrazio moltissimo Jenny per questa generosissima presentazione, sono davvero molto lieto e molto onorato di partecipare a questo seminario che ha visto la partecipazione di molti studiosi, e di molte studiose davvero illustri, che verte su un tema, come sempre, straordinariamente ben delineato, come nel caso di tutte le attività condotte da Jenny e dai suoi collaboratori, dalle sue collaboratrici all'interno di questo meraviglioso progetto IRC Nemosanti. Quindi comincio con una citazione dantesca per ringraziare, non è l'affezione mia tanto profonda che basti a rendere voi grazia per grazia. Ecco, con questi due indicasillavi, nel quarto canto del Paradiso di Dante, il quale molto si occupò poi non soltanto di grazia, ma anche di grazia, nel senso teologico del termine, e mi si lascia dunque ringraziare la professoressa Jenny Ponzo per avermi invitato a partecipare con ogni intervento al ciclo di seminari sul tema autobiografie spirituali, un intervento nel quale, come vedrete, parleremo molto di grazia, nel senso teologico del termine. Si tratta di un ritorno su temi a me cari, ma che ho abbandonato, comunque rivisto sotto un'altra luce, così sono i percorsi della ricerca. Tuttavia, per lungo tempo mi sono occupato dell'immaginario della conversione religiosa dopo il concilio di Trento, cercando di comprenderne perlomeno alcuni aspetti attraverso l'analisi storico-semiotica dei testi verbali e non, non è un ossimoro, si può condurre un'analisi storica dei contesti, un'analisi semiotica dei testi allo stesso tempo, testi che furono prodotti e recepiti tra la fine del concilio di Trento stesso, del 1563 e il 1622, una data che scelgo per il particolare significato che essa riveste nella storia della santità. In questa occasione non giustificherò dettagliatamente la tale scelta, ma come sanno gli esperti di ageologia del progetto Nemo Sancti, si tratta dell'anno di canonizzazione di alcuni fra i più importanti santi moderni, quali Teresa Davila, Ignazio di Loyola, Francesco Saverio e Filippo Neri. Allora, una delle mie ipotesi in questo studio consiste nell'affermare che, perlomeno nell'epoca da me prescelta, le numerose rappresentazioni sia verbali che visive di questi quattro santi, quali furono o dei grandi convertiti o dei grandi convertitori, o come nel caso di Sant'Ignazio, entrambe le cose, costituirono una sorta di modello che la riforma cattolica propose non solo in Europa, ma anche nelle nuove missioni d'Oriente e d'Occidente per guidare la conversione altrui. Ma lo studio di questi testi, in particolare di quelli visivi, non ci consente soltanto di comprendere il progetto persuasivo della Chiesa, con tutte le sfumature che si cedano dietro questo nome, ma anche di maturare una migliore conoscenza del pubblico di questi testi, che in essi trovava in scritta, almeno in parte, la propria cultura e il proprio immaginario. Quest'oggi vi proporrò una piccola sezione delle mie ricerche concernente il rapporto tra autobiografia spirituale, rappresentazione della conversione e grazia in senso teologico. Si tratta di un concetto fra i più dibattuti e controversi, non solo nella storia del cristianesimo, ma anche in quella delle religioni e nella storia delle idee to cure, il suo gioca in effetti un ruolo fondamentale nell'immaginario della conversione. Raccontare il mutamento spirituale, infatti, significa inevitabilmente prendere posizioni rispetto alle sue cause scatenanti, in particolare rispetto alla misura in cui è Dio o l'essere umano contribuiscano al verificarsi della conversione stessa. Ci chiederemo dunque in che modo determinate immagini post-tridentine si posizionino rispetto a questo problema, enfatizzando volta a volta l'azione dell'essere umano o quella di Dio. Tutti i testi visivi che illustrerò quest'oggi ci sono rappresentazioni di conversioni, in particolare della conversione di Sant'Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù, ma se ne avremo il tempo anche la conversione della Maddalena e lì torneremo sul tema dello specchio e del volto in maniera predominante. Tuttavia ci occuperemo pur sempre di testi sia verbali che visivi dell'epoca che stiamo prendendo in considerazione, cioè quella in cui la Chiesa Cattolica in qualche modo ristruttura se stessa attraverso il Concilio di Trento. Queste immagini entrano in un rapporto complesso rispetto alle idee teologiche sulla grazia che circolavano nel momento in cui questi testi visivi furono prodotti e recepiti. Da un lato tutte le rappresentazioni si ricollegano direttamente o indirettamente a una tradizione ageografica, la quale a sua volta racconta la conversione di Sant'Ignazio, nel caso che prendiamo in considerazione per primo, adottando una prospettiva teologica precisa. Dall'altro lato però, come vedremo, le immagini spesso tradiscono questa stessa prospettiva ageografica introducendo all'interno della rappresentazione visiva dei contenuti teologici diversi. Un problema semiotico piuttosto spinoso sarà quello di stabilire se questa eterodossia delle immagini rispetto alla tradizione verbale dipenda solo dai meccanismi della trasposizione, ovvero sia frutto di una scelta mirata da parte degli artisti e del loro entourage. Al fine di proporre le mie ipotesi sarà necessario che io fornisca preventivamente qualche informazione sulla tradizione ageografica e iconografica concernente Sant'Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù, e sicuramente uno dei maggiori protagonisti della storia del cattolicesimo moderno. Mi scuso naturalmente con coloro fra voi che esperti di ageografia e ageologia conoscano già tutto a proposito della vita e delle tradizioni biografiche, ageografiche di questo santo. Allora saprete che il primo testo verbale che racconta la conversione del santo è di tipo autobiografico appunto, per la precisione si tratta di alcune note che Sant'Ignazio di Loyola dettò al discepolo padre Luis González da Camara tra il 1553 e il 1555, ad eccezione di una lettera scritta dal gesuita Diego Lainez nel 1547 e di due saggi di storia della Compagnia redatti dalla gesuita Juan de Polanco, il primo tra il 1547 e il 1548 e il secondo da il 1551, queste note costituiscono il primo documento biografico, ancora non si può parlare di ageografia, relativo a Sant'Ignazio di Loyola. Esse si possono leggere anche in italiano, in due edizioni diverse, Ignazio di Loyola, il racconto del pellegrino, autobiografia di Sant'Ignazio di Loyola del 1967 con una prestigiosa edizione da parte di un intellettuale italiano che tutti conosciamo, vale a dire Roberto Calasso, infatti si tratta di una edizione uscita per i tipi di Adelfi. E poi nel 1988 Ignazio di Loyola, racconto di un pellegrino, l'edizione a cura di Giuseppe de Gennaro, un'edizione diciamo così più accademica e meno intellettuale, per i tipi della città nuova a Roma. Allora mi soffermerò adesso solo sul modo in cui questo testo racconta la conversione del fondatore dei Gesuiti, e tralascio invece perlomeno in questa occasione di discutere i dettagli filologici di questa autobiografia che sarebbero non di meno assai rilevanti, specie per comprendere il filtro che González da Camera abbia potuto frapporre fra la voce stessa del Santo e la pagina scritta. Lo stile del testo in questione è piuttosto lapidario, sul periodo che precede la conversione, esso recita, leggo direttamente in spagnolo, hasta los 26 años de su edad, fue hombre dado las vanidades del mundo y principalmente se deleitaba en ejercicio de armas con un grande Ivano deseo de ganar honra, quindi fino ai 26 anni di età fu un uomo dedito alle vanità del mondo e principalmente si dilettava nell'esercizio delle armi con un desiderio grande e vano di conquistare fama, di conquistare la fama. Durante la battaglia per la difesa della città spagnola di Pamplona dell'assedio dei soldati francesi, il soldato Ignazio di Loyola fu colpito alla gamba destra e indirettamente anche quella sinistra, come dice la tradizione, da un colpo di bombarda. Ricondotto dai nemici nel natio castello di Loyola, sopravvisse, secondo le stesse note autobiografiche, grazie all'invocazione di San Pietro, di cui lo stesso Sant'Ignazio era devoto. Prima di essere colpito, dunque, il fondatore della Compagnia di Gesù non era del tutto irreligioso. Il suo errore consisteva piuttosto nell'aver privilegiato il desiderio della vita vana e mondana del soldato a quello di un'esistenza ispirata alla pietà religiosa. Tuttavia, anche dopo il salvifico intervento di San Pietro, Sant'Ignazio persistette nel proprio errore. Infatti, già che, come testimoniano le note autobiografiche, le ossa della gamba destra del futuro santo avevano prodotto, saudandosi, un'escrescenza che risultava oltremodo antiestetica, il santo, o per meglio dire il futuro santo, chiese ai chirurghi di asportarla, nonostante questi gli dovessero sconsigliato per il gran dolore e pericolo al quale egli avrebbe dovuto sottoporsi. Rimossa l'escrescenza, poi egli si fece praticare delle penosissime trazioni che avevano come fine quello di allungare la gamba destra quanto la sinistra. Come sappiamo, queste operazioni non sortirono un effetto impeccabile dal momento che la tradizione agiografica descrive il santo come claudicante. Occorre però sottolineare, in vista dell'analisi delle immagini, che l'intervento in qualche modo miracoloso di San Pietro non coincise con la conversione di Sant'Ignazio, il quale, scampato al pericolo di morte, ripiombò nel peccato di sempre, quale a dire la vanità ondana. Gli agiografi posteriori di Sant'Ignazio e in particolare le traduzioni in lingua vulgare della più importante agiografia ignaziana, quella del gesuita Pedro de Ribadeneira, sulla quale ritorneremo, insistono su questo avvenimento caricandolo di ulteriori dettagli. Cito a partire da una traduzione italiana del 1584. era Ignazio per sua natura inclinato molto alla politezza e si direttava ad andare leggeramente sulla persona, e inoltre aveva pensiero, come di già aveva incominciato, di proseguire gli esercizi della guerra, e come che per l'una cagione e per l'altra sconcio gli paresse quel rilievo del ginocchio e dannosa la trazione della gamba, cercava di rimediare a questi due inconvenienti. Ma prima dimandò a chirurghi se quell'osso che con tanta deformità sopravanzava si poteva segare senza pericolo della vita, ed essendo di risposto che sì, ma però con molto suo costo, poiché avendosi da segare per la viva carne avrebbe da provare il maggiore e più acuto dolore che fino a quel giorno nell'infermità sua avesse sentito, egli, non estimando le parole che morti per levarlo da tal proponimento che dicevano, volle che l'osso gli fosse segato e in tal modo soddisfece al volenteroso suo appetito. E come io stesso una fiata gli udì dire, tutto ciò fece per poter portare, attenzione, per poter portare, come in quel tempo si usava, i stivaletti o borsacchini alla gamba giunti e attilati. Ne fu mai possibile levarlo da questo pensiero o persuaderli altramente. E quindi cito dalla vita del beato Ignazio Loyola, beato perché è pubblicata nel 1586, quindi ancora prima della canonizzazione del 1622, è fondatore della religione della Compagnia di Gesù, descritta dal reverendo padre Pietro Ribadeneira, prima in lingua latina e dopo da lui ridutta nella castigliana e ampliata in molte cose. E' nuovamente tradutta dalla spagnola e italiana da Giovanni Giolito de Ferrari, Venezia appresso i gioliti, Giovanni Giolito de Ferrari, come saprete, è stato il grande divulgatore della geografia ispanica in Italia nel XVII secolo. Allora, il desiderio, il XVI secolo, scusate, il desiderio di portare degli stivaletti attillati spinse dunque Sant'Ignazio a sottoporsi a una delicata e penosissima operazione. In seguito, costretto a letto da una lunga convalescenza, Sant'Ignazio chiese ai familiari che gli fossero date delle opere di cavalleria di cui era assai appassionato e che ne avevano ispirato i desideri di gloria militare. Leggiamo ancora una volta le note autobiografica e quindi ritorniamo alla autobiografia spirituale di Ignazio. E perché era muidato a leer libros inundano e falsi che suelen llamar di cavalleria, sintiéndose buono, pidio che le diesen a alcuni dei loro per passare il tempo. Ma in quella casa non si hagi un ninguno di quelli che solle a leggere Iassile di Eron, un vita a Cristi in un libro della vita dello Santos e in romanze, sempre dalla vita di Sant'Ignazio di Loyola, in particolare della versione più recente, dall'edizione più recente delle note autobiografiche che si trovano nelle opere complete pubblicate nel 1997. E dunque, siccome era molto dedito a leggere libri mondani e falsi, che si è soliti chiamare di cavalleria, sentendosi bene, chiese che gli fossero dati alcuni di tali libri per passare il tempo. Ma in quella casa non si trovò nessuno di quei libri che egli era solito leggere e così gli diedero una vita a Cristi, un libro intitolato Vita a Cristi e un libro sulla vita dei Santi in lingua volgare. Come vedete c'è una costruzione molto interessante anche dal punto di vista maratologico, una misa nabim in cui si racconta nella vita di un santo il modo in cui egli stesso ricevette la prima scintilla della conversione leggendo le vite di altri santi, con un classico effetto enunciazionale che è quello della misa nabim. Altro aspetto interessante di questa enunciazione è anche il fatto che si tratti di note autobiografiche che però vengono dettate e non vengono trascritte in prima persona e quindi vengono poi riportate ad una terza persona che muta il punto di vista enunciazionale costruendo una specie di débraillage dunque sulla autobiografia spirituale. gli agiografi di Sant'Ignazio hanno creduto di poter identificare i libri che furono consegnati al santo. Si tratterebbe di una traduzione spagnola di Ambrosio Montesino della vita Jesucristi di Ludolf von Sachsen che visse fino al 1377 probabilmente una traduzione spagnola dell'edizione del 1522 della vita Jesucristi pubblicata a Lione e molto diffusa a quel tempo e di una versione nella stessa lingua di Goberto Ragaz della leggenda aurea di Jacob Davoragine che tutti conoscete perché naturalmente si tratta di un best seller della geografia occidentale leggendo la vita di Cristo ma soprattutto quelle dei santi Sant'Ignazio maturò la decisione di diventare un eroe della religione cristiana piuttosto che un eroe della cavalleria o della vita militare tuttavia secondo le note autobiografiche dettate dal santo al suo discepolo la sua non fu una vocazione repentina e fulminante ma un processo lungo e pieno di ripensamenti in cui il desiderio di una vita religiosa fu più volte minacciato da quello di una vita mondana non posso purtroppo soffermarmi sui dettagli di questa evoluzione che sono purtuttavia centrali per comprendere il peso che la grazia vi gioca perlomeno nel resoconto autobiografico di Sant'Ignazio e sottolineo invece sempre ai fini dell'elettura iconografica ciò che avvenne quando il mutamento spirituale fu completo il santo ricevette una visione della Vergine con il bambino Gesù qui una piccola digressione si introduce secondo me un tema importante per chi scrive di autobiografia spirituale cioè la costruzione di una memoria del cambiamento spirituale dell'evoluzione spirituale ovvero del cambiamento radicale che ovviamente non corrisponde necessariamente ai fatti non corrisponde necessariamente alla visione dall'esterno ma diventa una ricostruzione personale per i fini anche della propria spiritualità di quanto è accaduto alla propria identità religiosa ai fini di questo seminario però non vale la pena soffermarsi oltremodo su queste note autobiografiche anche se si tratta del punto di partenza poi di questa tradizione testuale e si tratta anche dell'oggetto principale della riflessione sviluppata interno di questo seminario in quanto queste note per motivi che poi ho cercato di uccidare anche in altre ricerche furono rapidamente occultate dagli stessi gesuiti questo è un altro punto interessante molto spesso l'autobiografia spirituale non è ideale per servire i fini di una comunità religiosa che si fonda su una vicenda spirituale individuale infatti nel caso specifico si può affermare senza tema che gran parte dell'immaginario ageografico iconografico relativo alla vita di Sant'Ignazio di Loyola faccia capo alla geografia ufficiale preparata dal padre Pedro di Badenera che visse come ricorderete tra il 1526 e il 1611 quindi quasi un contemporaneo del processo di beatificazione e poi di canonizzazione nel 1567 in effetti l'allora generale della compagnia di Gesù vale a dire Francesco Borgia San Francesco Borgia commissionò alla geografo spagnolo Pedro di Badenera una biografia ufficiale del fondatore e naturalmente questa come altre imprese editoriali e iconografiche dello stesso tipo devono essere sempre collocate nel contesto degli sforzi che dopo la morte di Sant'Ignazio furono compiuti dai gesuiti per divulgare la reputazione di santità del loro fondatore in vista prima del processo di piattificazione avvenuta nel 1609 e poi in vista del processo di canonizzazione che come sappiamo culminò nelle celebrazioni del 1622 dal 1553 Ribadenera che aveva conosciuto Sant'Ignazio direttamente in modo approfondito aveva cominciato a raccogliere un dossier come diremmo oggi sulla vita del fondatore la redazione della biografia ufficiale fu completata nel 1569 ma l'opera si pubblicò solo tre anni dopo nel 1572 e la famosa vita Ignazio Loiole societatis societatis Jesu fundatoris libris quinquere comprensa è pubblicata nel 1556 Apud Josefum Cacchium a Napoli ad eccezione del latinista italiano Giovanni Pietro Maffei il quale su incarico del padre generale Everardo Mercuriano pubblicò una sua propria biografia del santo è una biografia pubblicata nel 1583 di vita et moribus Ignazio Loiole pubblicata a Roma da Francesco Zannetto e Pedro Rivadeneira fu l'unico dei biografi e dopo il 1622 degli agiografi di Sant'Ignazio di Loiole a poterne utilizzare le note autobiografiche cioè sia il testo di Rivadeneira che quello del Maffei furono pubblicati originalmente in lingua latina perché rivestivano un carattere ufficiale e si rivolgevano principalmente a un pubblico di religiosi vedete qui come si costruisce una macchina retorica una macchina persuasiva basata sulla geografia in cui ci sono delle note autobiografiche spirituali di queste note però esistono vengono trasposte ma vengono anche occultate per vari motivi ma il motivo principale è che il santo non deve parlare bene di sé non deve parlare bene della propria vicenda spirituale non deve diciamo esaltare la propria vicenda spirituale con una voce propria deve rimanere a fondamento referenziale di un discorso che sarà invece sviluppato da altri in latino appunto nel caso di Ribade Meira e poi di Maffei questi testi questi primi testi in latino conobbero davvero un enorme successo tuttavia l'opera dello spagnolo cioè del Ribade Meira per ragioni sulle quali adesso non ci possiamo soffermare perché sarebbe troppo lungo raggiunse una diffusione di gran lunga maggiore e si impose come a geografia ufficiale di Sant'Ignasso di Loyola nel costo dei secoli ma insomma una ragione principale è che si tratta di un ordine religioso perlomeno nei primi sviluppi molto centrato sulla Spagna la penisola iberica e sulla lingua spagnola allora riedita in latino la biografia di Ribade Meira nel 1586 nel 1587 nel 1590 nel 1595 nel 1602 e poi innumerevoli volte negli anni successivi questa vita fu poi tradotta nelle principali lingue moderne per ciascuna delle quali si sono avute numerosissime edizioni se cercaste questa biografia di Sant'Ignasso di Loyola nelle biblioteche antiche di tutta Europa trovereste costantemente delle edizioni delle traduzioni credo questa diciamo biografia sia presente in quasi tutte le biblioteche diciamo di area cattolica in Europa e si tratta in effetti di uno dei maggiori successi ageografici dell'editoria post-tridentina forse di tutti i tempi oltre che di uno dei primi esempi di ageografia moderna sorretta da un certo scrupolo storiografico che si appoggia anche sulla diciamo sul riferimento al testo autobiografico allora io non posso attardarmi su questo aspetto della vita del Ribade Nera ma mi preme sottolineare che essa fu altresì la fonte di un numero elevatissimo di rielaborazioni successive sia nel linguaggio verbale che in quello visivo le quali toccarono due apici di abbondanza uno minore nel 1609 in occasione della beatificazione e l'altro nel 1622 quando Ignazio di Loyola fu proclamato santo ogni riaborazione successiva così come le diverse edizioni della medesima vita del Ribade Nera raccontano ovviamente gli stessi fatti cioè quelli narrati per la prima volta nelle note autobiografiche di Sant'Ignazio e comunque dal punto di vista semiotico è interessante comparare tutte queste edizioni perché in ogni edizione c'è un piccolo slittamento di prospettiva che però fa una grande differenza dal punto di vista ideologico retorico persuasivo cioè di anno in anno cresce la fama di Sant'Ignazio ci si avvicina alla sua beatificazione poi la sua canalizzazione e dunque c'è la necessità di accompagnare questo processo raccontando sì gli stessi fatti perché non bisogna entrare in contraddizione con edizioni passate ma spostando l'accento su certi aspetti piuttosto che su certi altri quindi va bene il racconto autobiografico però questo deve essere poi trasceso dal racconto ufficiale tuttavia il modo in cui questi avvenimenti sono raccontati dicevo cambia considerevolmente ad esempio nel passaggio del testo latino a quelli involgare che si rivolgevano a un pubblico completamente diverso e con assai diverse finalità queste variazioni intorno a una costante ovvero questi diversi modi di raccontare gli stessi fatti sono assai preziosi per lo storico delle idee del sentimento dell'immaginario religiosi ma anche per il semiotico delle culture religiose perché le permettono di cogliere la maniera in cui la vita del santo fu di volta in volta piegata in questa o quella direzione al fine di servire a tale o tal'altra necessità retorica particolare allora nel proseguo nel nostro seminario di oggi ci occuperemo del modo in cui le immagini hanno trasmesso ma spesso anche distorto il racconto della conversione di Sant'Ignazio non di rado proprio con l'obiettivo di incorporare all'interno di questo o quel racconto visivo una particolare concezione teologica della grazia ora ritorniamo al testo autobiografico nelle note di Gonzales da Camera la conversione del fondatore della compagnia di Gesù sembra scaturire da un insieme di elementi alcuni dei quali sono imputabili alla volontà del santo quella ad esempio di invocare San Pietro ovvero quella di imitare i grandi santi di cristianesimo laddove altri sembrano nascondere dietro la loro apparente casualità l'intervento della grazia divina il colpo di bombarda Pamplona l'assenza di libri di cavalleria di letteratura cavalleresca nel castello di Loyola la presenza di libri agrografici nello stesso castello e così via mentre altri elementi ancora sono certamente imputabili a un miracoloso ausilio celeste l'apparizione della vergine col bambino che chiude il processo della conversione ad esempio sei testi verbali vale a dire diverse a geografie ma anche i poemi a geografici o i racconti popolari da esse desunti si limitano a enfatizzare questo o quell'elemento a seconda che desiderino conferire rispettivamente a Sant'Ignazio o alla grazia divina il primo piano della conversione scusate l'anacronismo cinematografico le immagini distorcono sovente il racconto originario anche a causa delle trasformazioni imposte dalla traduzione intersemiotica fino al punto di mutarlo radicalmente e vediamo adesso in che modo l'iconografia di Sant'Ignazio di Loyola è ricchissima una tappa fondamentale nella sua costituzione è stata segnata però senza dubbio dalla preparazione di una agiografia visiva realizzata in occasione della beatificazione del fondatore della compagnia nel 1609 si può sostenere con tranquillità che questa vita stia alla tradizione iconografica posteriore come l'opera del Ribadeneira sta alla tradizione ageografica successiva essa costituisce cioè un punto di riferimento indispensabile per coloro che in seguito dovranno trasporre in immagini uno o più episodi della vita del santo la storia di questa geografia visiva è assai complessa ma è allo stesso tempo molto utile al fine di comprenderne appieno il significato da semiotici non dobbiamo dimenticare la storia non dobbiamo conoscerla per conoscere il contesto dei testi che studiamo nel 1605 allorché il Papa Paolo V aprì il processo di beatificazione di Ignazio di Loyola l'allora generale della compagnia Claudio Acquaviva incaricò lo storico e autore di testi mistici e spirituali Nicolai Lexicchi lituano anche se all'epoca diciamo la identità nazionale della Lituania era fusa con quella della Polonia Filippo Rinaldi che era allora rettore del collegio germanico a Roma e probabilmente anche il teologo ungherese Peter Pazmani che a voi non dirà nulla ma insomma è stato uno dei fondatori del sistema educativo cattolico ungherese di preparare una biografia per immagini del fondatore vedete già diciamo cosa c'è dietro questa iniziativa un gesuita italiano uno lituano polacco uno ungherese insomma si tratta di un'impresa veramente europea allora pubblicata una prima volta nel 1609 quest'opera fu poi riedita nel 1622 in occasione della canonizzazione del santo la prima edizione conteneva 79 incisioni sul rame mentre la seconda ne conteneva una in più raffigurante la canonizzazione stessa un ottimo esemplare dell'edizione del 1622 è conservato presso l'archivio storico del santuario di Loiola è esemplare dal quale poi sono state fatte le immagini che vi andrò mostrando tutte in quarto ma insomma si tratta di una biografia a geografia per immagini che è anch'essa molto diffusa la trovate nelle biblioteche romane del secento della vaticana eccetera eccetera in realtà la genesi di questa geografia visiva è più complessa tuttavia i dettagli della sua elaborazione sono forse poco interessanti per un pubblico di semiotici per cui li tralascio occorre invece spendere qualche parole sia su coloro che organizzarono concettualmente l'opera sia su coloro che ne eseguirono i disegni preparatori e le incisioni prima di tutto è necessario sottolineare che i tre autori gli autori dei testi perché si tratta di immagini accompagnate da di la scalia ma insomma coloro che poi sostanzialmente costruiscono la sceneggiatura di questa biografia a geografia di Sant'Ignazio di Loyola per immagini tutti e tre lexichi Rinaldi e Pazmani sebbene il contributo specifico di ciascuno di essi alla realizzazione del progetto non possa essere individuato con precisione avevano più di un motivo per prestare attenzione alla rappresentazione della conversione religiosa e della grazia qui ci sono molti dettagli ma insomma che ho ricostruito pazientemente ma vi riassumo diciamo che lexichi era un calvinista che aveva abbiurato appunto il calvinismo per abbracciare il cattolicesimo e il secondo autore Peter Pazmani anche egli era un convertito cioè aveva abbandonato il luteranesimo per passare al cattolicesimo nel 1583 e il punto di contatto tra questi due convertiti cioè lexichi e pazmani entrambi gesuiti ma entrambi passati alla compagnia l'uno dal calvinismo l'altro luteranesimo fu probabilmente Filippo Rinaldi che era professore di retorica al collegio romano dal 1596 al 1597 e rettore del collegio germanico al momento della preparazione della biografia per immagini allora forse non conoscerete questa istituzione che poi è diventata credo che adesso si sia ancora denominata collegio ungarico germanico ma si trattava di un collegio in cui si preparavano i novizi che dovevano diciamo così lottare alle frontiere dell'Europa cattolica la compagnia di Gesù nasce da un allontanamento di Ignazio di Loyola dalla carriera militare e tuttavia nasce come trasfusione di un impianto militare nella funzionamento dell'ordine religioso si tratta di una sorta di milizia spirituale al servizio soprattutto dei fini diciamo dell'Europa cattolica minacciata dei protestantesi allora lascio anche in questo caso i dettagli sulla fondazione del collegium germanico poi diventata appunto come vi dicevo collegium germanico et ungaricum che è tuttora attivo a Roma e sottolinea soltanto che lo stesso Filippo Rinaldi in quanto professore di retorica era probabilmente incuriosito dalla possibilità di costruire questo strumento di comunicazione di persuasione che valicasse ogni barriera linguistica che andasse anche al di là dell'analfabetismo che toccasse anche coloro i quali non potevano leggere il racconto verbale della conversione di Sant'Ignazio di Loyola questa a geografia visiva però non è interessante solo per gli storici delle idee religiose per i semiotici della cultura ma anche per gli storici dell'arte infatti ha sodato che i segni preparatori per questa serie di incisioni siano stati realizzati da un allora giovane artista fiammingo il cui nome sarebbe stato in seguito indissociabilmente legato a quello della compagnie di Gesù e che diventa ben presto uno dei pittori più influenti prolifici e ammirati di tutti i tempi e alludo naturalmente a Peter Paul Rubens anche la biografia di questo straordinario artista fu toccata seppur indirettamente dal problema della conversione tra lascio i dettagli ma insomma ricorderete che Rubens era figlio di un avvocato protestante di Anversa che si era rifugiato a Colonia per sottrarsi alle persecuzioni spagnole contro gli eretici delle Fiandre e però il padre del pittore Jan Rubens dopo numerose vicissitudini era ritornato nella sua città natale dove aveva sposato una cattolica cioè Maria Piepelings che però dovette nascondere il proprio credo fino alla morte del marito quindi diciamo nella vicenda anche biografica di questo pittore c'è fortemente qualcosa che sembra adesso così lontano ma che era un dissidio coccente sanguinoso all'interno di quella che chiamiamo adesso Europa cioè il conflitto tra cattolici e protestanti Rubens fu educato dai gesuiti e questo che ottenne la madre di Rubens a patto di celare appunto la propria religione fino alla morte del marito e quindi diciamo che il contatto di Rubens con la teologia dei gesuiti fu molto precoce l'incisore di queste immagini che vedremo è invece il fiammingo Giovanni Battista Barbè che è il cognato del celebre incisore fiammingo Geronimo Virix legato al circolo artistico di Filippo Gall e si tratta diciamo della grande monopolio dei Paesi Bassi sulla produzione di incisioni di argomento religioso in particolare di contenuto cattolico tra il XVI e XVII secolo allora dopo aver descritto e commentato sia pure superficialmente il contesto della vita di Sant'Ignazio di Loyola in immagini veniamo adesso all'analisi dei testi invisivi premettiamo innanzitutto che il problema semiotico ed estetico di trasporre in un'immagine che non può che rappresentare un singolo istante ricordate le lezioni di semiotica delle arti di Omar Calabrese di altri il complicato processo della conversione trova una soluzione piuttosto agevole nelle incisioni di Rubens e Barbè essi infatti distribuiscono in una serie di più testi visivi il racconto verbale di Riva de Nera o di altre fonti allora la prima immagine della serie è la seguente adesso provo a condividere il mio schermo per mostrarvi qualche immagine ecco questa è la prima immagine della biografia visiva di Rubens e Barbè pubblicata appunto nel 1609 cominceremo proprio da qui allora dicevo la struttura della composizione visiva è piuttosto complessa l'immagine è affollata di figure di dettagli che tuttavia conservano la propria individualità grazie alla precisione e all'abilità sia del disegnatore che dell'incisore al fondo dell'incisione sotto un cielo plumbio e minaccioso si percepiscono alcuni edifici probabilmente una chiesa una cupola che sovrasta il timpano e la parte centrale dell'immagine però è occupata dalla fortezza di Pamplona che Sant'Ignazio è impegnato a difendere quindi diciamo che vedete che nel primo piano dell'immagine trovate il condottiero Ignazio di Loyola il quale viene rappresentato proprio lì dove finisce la breccia che si apre nelle mura della fortezza di Pamplona c'è una costruzione visiva molto sapiente di questa incisione che costruisce delle vettorialità e delle direttrici le quali conducono tutte verso questa figura di Sant'Ignazio di Loyola che sebbene sia rappresentata come minuscola in questa folla di personaggi risulta tuttavia particolarmente percepibile e non soltanto perché è più grande rispetto agli altri figurine che compaiono in cima alla torre della fortezza ma anche perché appunto ci sono questi vettori ci sono queste direttrici che con un fenomeno che potremmo semioticamente definire come una rete di indice puntano verso il corpo di Sant'Ignazio raffigurato in questa incisione e in effetti la lettura dell'incisione quella classica molto è tutto favorita dal fatto che si tratta di incisione all'interno di una serie di immagini quindi una lettura che procede secondo la direzione della scrittura la maggior parte delle lingue occidentali da sinistra verso destra c'è un richiamo del soldato invasore un soldato francese questo pennacchio sul metto rappresentato nell'angolo in basso a sinistra dell'immagine il quale richiama l'esterno della scena e quindi sostanzialmente richiama anche noi in quanto osservatori impliciti di questa vicenda e della sua narrazione visiva all'interno della scena stessa e dopodiché questa rete di vettorialità di vettrici questa rete di indici attraverso la lancia del soldato situato dalla parte in basso a sinistra della scena rimanda all'archivugio del soldato che invece si trova nella parte in basso a destra della stessa immagine il quale è puntato nella direzione di Sant'Ignazio insieme con le bandiere bianche che vediamo al centro della incisione vicino al bordo destro così come l'indice e la mano puntati del soldato rappresentato nell'angolo in basso a sinistra il quale appunto apre con questo gesto plateale verso la narrazione erisiva della vicenda ma la direttrice non fa che confermare anche quella che si sprigiona da questo elemento essenziale nella narrazione dell'episodio vuole dire la stessa bombarda che dirige appunto i propri obici verso questa figurina in cima tor queste direttrici dal basso però corrispondono anche delle direttrici dall'alto nel momento in cui il colpo di bombarda colpisce Sant'Ignazio di Loyola o perlomeno colpisce la fortezza nella quale si trova Sant'Ignazio di Loyola soldato una tentativa di difenderla nello stesso tempo c'è un colpo spirituale che invece arriva dall'alto vedete questo raggio di luce questo o questa specie di fascio fulmineo che piomba sul corpicino di Sant'Ignazio nel momento in cui si apre questa breccia nella fortezza si tratta di una composizione visiva molto complessa molto efficace qui trovate invece una rappresentazione successiva sempre nella stessa biografia per immagini che cerca di trasporre dunque attraverso queste incisioni il racconto di Arriba de Neira e contemporaneamente affonda le proprie radici nelle note autobiografiche di Ignazio di Loyola tanti elementi in questa immagine potrebbero essere oggetto di un'analisi semiotica approfondita ma nello stile di Rubens e del suo incisore Barbè poi bisogna anche sottolineare il fatto che nessun dettaglio è superfluo tutto è significante tutto contribuisce in maniera molto orchestrata alla effetto visivo globale e quindi vi faccio notare il piede di questo letto a baldacchino che sicuramente non è un dettaglio casuale ma perché raffigurare questo letto a baldacchino con questo particolare piede dalla forma di grifone con questo corpo chimerico il quale diciamo si caratterizza per un becco adunco e per una zampa artigliata così come vi faccio notare gli oggetti che si situano sul comodino di Sant'Ignazio di Loyola cioè un libretto un quaderno una un calamaio con dentro una penna e qui si vede già la rappresentazione di un Sant'Ignazio che è lettore ma contemporaneamente scrittore e poi questo San Pietro che viene rappresentato come qualcuno che entra all'interno della scena visiva in maniera molto particolare ricordate l'episodio legato al grande storico dell'arte Bernard Berenson se avete un giorno la fortuna di visitare il centro di studi per l'arte rinascimentale dell'università di Harvard a Firenze cioè Villa i Tatti lì si trova la biblioteca di Berenson questo grandissimo c'è il suo storico dell'arte di americana che ha dedicato tanti studi al rinascimento italiano e si racconta che una volta dissero appunto a Berenson che allora Papa fosse più nono aveva avuto una visione e Berenson allora chiese in sua volta intestile perché quello che interessava appunto Berenson era tanto il contenuto teologico della visione quanto il fatto che mi interessava da storico dell'arte capire con che stile iconografico poi il Papa avesse avuto una visione e allora vi faccio notare che qui c'è una costruzione diciamo così topologica dell'incisione che è molto sottile anche in questo caso molto efficace perché si disegna una specie di nicchia all'interno dell'immagine nella quale si trova Sant'Ignazio di Loiola sotto questo letto a baldacchino questo letto a baldacchino che però ricorda anche la tenda di un accampamento militare nello stesso tempo c'è un soffermarsi seppure diciamo discreto sulla condizione del malato e particolarmente delle gambe di Sant'Ignazio di Loiola sulle quali poi si speculerà a lungo vedete che questa tenda a baldacchino si apre sul volto sul corpo di Sant'Ignazio però costruisce una specie di rima visiva con l'altra tenda che invece si apre su questa porta che si trova nella parte sinistra dell'incisione allora anche lì nessun dettaglio è superfluo ed è casuale ci si può chiedere ma perché questa rima visiva perché nel momento in cui si apre questa tenda militare che però è anche il baldacchino del malato del letto del malato Ignazio di Loiola allo stesso tempo si scosta questa tenda per fare intravedere appunto questa porta sullo sfondo perché diciamo che il racconto della conversione in particolare della santità ha sempre bisogno di un testimone quindi molto spesso nelle rappresentazioni visive di quest'epoca in particolare nelle incisioni di Ruvens di Barbè c'è sempre l'evocazione dello sguardo di un testimone che potenzialmente e rigorosamente in maniera casuale accede alla scena visiva del prodigio del miracolo della conversione miracolosa allora ricordate però che cosa aveva detto Ignazio di Loiola che cosa aveva scritto Ignazio di Loiola o meglio che cosa aveva dettato Ignazio di Loiola a Gonsalves da Camera gli aveva dettato che durante la convalescenza egli devoto aveva invocato San Pietro per ottenerne ausilio spirituale dunque una guarigione quella che vedete rappresentata qui però non è una invocazione è una visione sono due avvenimenti spiritualmente molto diversi un conto è invocare un santo e altro conto è ricevere la visione di un santo e qui la differenza è ambigua tra l'estetico e il teologico perché da un lato si potrebbe dire ah sì però per dare più risalto a questo momento Rubens e Barbè trasformano l'invocazione di un santo nella visione di un santo d'altro canto però si può anche sostenere che sia nella stessa dinamica del linguaggio visivo l'impossibilità di distinguere tra invocazione e visione cioè come rappresentare visivamente il fatto che Ignazio di Loyola invoca un santo senza far sì che questa invocazione possa essere interpretata come una visione allora quello che fanno Rubens e Barbè e di circondare il corpo di San Pietro di questa specie di cornice di nubi proprio per indicare il fatto che non c'è un contatto tra il corpo di Sant'Ignazio e quello di San Pietro sono due dimensioni diverse l'immanenza la trascendenza qui non si toccano ma ritroviamo però questo fascio di luce questa saetta spirituale che si direziona accuminata verso il capo di Sant'Ignazio e che fa rima dunque con questa saetta questo fascio di luce che avevamo visto nella scena della della bombarda e si coglie per il fatto che insomma in questo caso Ignazio sia già devoto porta la mano sinistra al petto è un classico gesto di devozione e con la destra appunto esprime una specie di come dire gesto di avvicinamento alla mano destra di San Pietro che però rimane tutta sul confine della trascendenza non c'è un contatto ancora c'è una semplice invocazione vedete questi tre elementi di cui vi ho parlato che risultano significativi nella costruzione del racconto questo fascio di luce questo questa saetta spirituale poi viene rappresentata in maniera molto più eclatante in una incisione successiva in cui appaiono ancora i grifoni minacciosi ai piedi del letto di Sant'Ignazio c'è questa tenda militare che contemporaneamente è la tenda del convalescente c'è la candela accesa questi fogli questo quaderno prima in tonse adesso sono già ricoperti di scrittura infatti poi Ignazio Iloiola aveva enfatizzato le sue note autobiografiche che egli era sì lettore ma era anche scrittore prendeva appunti componeva i suoi florilegidi diciamo racconti agiografici tratti dalla leggenda aurea e è proprio leggendo che Ignazio Iloiola comincia a vivere la propria transizione religiosa che è un'evoluzione cioè più legge più viene avvicinato dalla grazia sotto forma di questa saetta e questo fascio luminoso accuminato finché come appunto dicevamo a partire come ricordavamo a partire dalle note dell'autobiografia spirituale note autobiografiche di Ignazio la invocazione di San Pietro è sostituita da una vera e propria visione allora si potrebbe pensare sì ma sono la stessa cosa invece no perché il disegnatore l'incisore ci tengono in questo caso a far sì che di nuovo attraverso questo fascio di luce l'immanenza e la trascendenza siano poste in contatto c'è di nuovo una cortina di nubi che circonda che fa da cornice alla vergine col bambino però viene aperta da questo fascio luminoso che tocca Sant'Ignazio le cui mani in questo caso non sono più nel gesto della devozione o del saluto ma sono unite in un gesto di preghiera allora è molto interessante un dettaglio che è tipico di Rubens guardate cos'è successo al piede del letto guardate come era il piede del letto nel momento dell'invocazione di San Pietro e guardate com'è il piede del letto nel momento della visione della Vergine la testa di Grifone viene coperta viene coperta dalla coltre rimane però la zampa di Leone è una specie di commento cifrato su quello che poi farà Ignazio di Loyola il quale cambierà testa sostanzialmente cambierà spiritualità ma metterà la propria forza al servizio della Chiesa Cattolica e non più al servizio della Spagna e come come aveva sognato di fare nei suoi desideri vanagloriosi vedete questo dettaglio tipico della diciamo invenzione di Rubens e poi il momento della vera e propria conversione in cui Ignazio esce dunque dalla tenda militare che si trova adesso nell'ombra che copre appunto il piede del letto a forma di grifone Ignazio si ritrova invece in un'altra parte più luminosa toccata dalla luce della stanza e come racconta lo stesso Ignazio di Loyola nelle sue note autobiografiche a questo punto c'è uno squarcio una specie di terremoto all'interno della stanza c'è una morfologia una topologia del racconto molto interessante perché il processo di conversione si apre con uno squarcio che è quello diciamo fatidico aperto dal colpo di cannone di bombarda nelle mure del castello di Pamplona difeso da Sant'Ignazio e poi il racconto visivo di questa conversione si chiude con un altro squarcio che è quello che si apre nella stanzetta della convalescenza di Sant'Ignazio e le fonti appunto a partire dalle note autobiografiche commenteranno il momento in cui il diavolo fugge spaventato dal luogo in cui Sant'Ignazio si trovava convalescente quindi avete una forza trascendente benefica in entrata attraverso il colpo di cannone e una forza trascendente malefica in uscita alla fine della conversione con questo racconto visivo visivo che si dipana tra una prima breccia e una seconda breccia allora mi soffermerò adesso su un altro un'altra rappresentazione della conversione di Ignazio guardate in che modo viene rappresentata per esempio da padre Pozzo che è stato grande architetto pittore gesuita irriconoscibile questa descrizione della conversione da quella che abbiamo trovato nella vita di Sant'Ignazio per immagini che cosa è successo nel frattempo beh San Pietro diventa una specie di San Pietro la tintoretto che si fionda su Sant'Ignazio con le chiavi della madre chiesa nella mano sinistra e con la mano destra già in un gesto di benedizione avvolto da questo drappo dorato fluttuante una scena di estrema di estremo dinamismo ma Sant'Ignazio è poi diventato un condottiero stranamente romano lo riconosciamo perché si ritorna sul dettaglio della della gamba questa gamba ferita dal colpo di cannone e poi questi soldati appunto della milizia di Ignazio che lo circondano e lo sostengono e però già questo quel gesto che prima era stato riservato al momento di convalescenza un momento intimo diventa invece in questa raffigurazione un momento un gesto plateale una mano che diciamo viene offerta distesa verso San Pietro nel momento in cui il colpo di cannone ferisce appunto la gamba di Sant'Ignazio e ne determina però la conversione guardate poi cosa è successo al cannone al colpo di cannone vedete dove è situato il cannone in questo raffresco che si trova appunto nella chiesa del Gesù e la chiesa di Sant'Ignazio a Roma è quella che celebra un po' il salto il tempio diciamo dedicato alla geografia del salto con il motto della compagnia ad maiora dei gloria le bombarde sono rivolte verso la parte esterna della scena sono più rivolte verso Ignazio sono invece dei cannoni difensivi sulla sinistra della scena e non dei cannoni che come nell'episodio di Rubens puntavano verso il corpo di Ignazio stesso e poi soprattutto ci sono questi strani cavalli che cosa ci facevano i cavalli in cima a una fortezza la fortezza tra l'altro viene rappresentata sullo sfondo vedete c'è al centro in alto San Pietro che piomba sorvola la scena di Sant'Ignazio convertito e la fortezza viene regata sullo sfondo c'è una scomposizione una frammentazione è un po' quello che succede nella cucina molecolare gli ingredienti si riconoscono ma sono stati tutti scomposti e riarrangiati con una topologia molto diversa e poi interviene questo elemento nuovo che sono i cavalli cioè come giustificare i cavalli in cima alla fortezza e la ragione è semplice probabilmente l'avrete intuita perché ci sono questi questi cavalli beh ci sono questi cavalli perché diciamo così la e qui ritorno a mostrarvi il mio volto e ci sono questi cavalli perché i cavalli sono fondamentali in un'altra conversione celebre della storia del cristianesimo in effetti molti di voi di fronte a questa rappresentazione della conversione di di sant'Ignazio probabilmente non avranno pensato che si trattasse appunto della rappresentazione della conversione di un santo del sedicesimo secolo perché questa questo cambiamento perché questa trasfigurazione beh diciamo che anche in questo caso l'analisi semiotica deve partire anche dal contesto storico no allora come vi dicevo questa immagine si trova tra gli affreschi della chiesa di sant'Ignazio realizzati da uno dei più grandi pittori gesuiti di tutti i tempi cioè Andrea Pozzo tra 1684 e 1685 e la composizione visiva di questo affresco è complessa allora vi ho segnalato quali sono gli elementi fondamentali per legge la noce san pietro che ha dei chiavi da mano sinistra e l'alto braccio puntato verso il suolo e ci sono queste questa trasformazione dell'invocazione di san pietro in una vera e propria visione di san pietro da parte di sant'Ignazio ci sono questi strani vestiti romani di ignazio che è vestito come un condottiero romano poi ci sono i cavalli cima alla fortezza c'è la postura soprattutto di sant'Ignazio il fatto che queste bombarde siano girate verso l'esterno piuttosto che verso l'interno e allora probabilmente padre Pozzo situò questi due grandi cavalli al lato di sant'Ignazio perché questi destrieri insieme con la postura del santo con i gesti degli altri soldati e insieme con lo slancio di san pietro che sorvola la scena dovevano incoraggiare lo spettatore a ritrovare l'iconografia della conversione di san paolo in quella di sant'Ignazio questo spiega anche la particolare iconografia di pietro che sorvola ignazio non fa che sostituire gesù che sorvola san paolo nell'iconografia della sua conversione questo anche il senso dei vestiti romani dei cavalli della postura cioè tutto deve condurre lo spettatore a formulare un'equivalenza che potremmo dire warburgiana ricordate warburg sulla patos formel tra la conversione miracolosa di san paolo e quella di sant'Ignazio e diciamo questo questa trasformazione iconografica non fa che portare a compimento visivo la trasformazione del racconto spirituale di sant'Ignazio a partire dalle sue proprie note autobiografiche e infatti se i primi testi ageografici raccontavano il mutamento spirituale del fondatore dei gesuiti come un'evoluzione no? si potrebbe dire con il lessico della segnotica che si trattava di un'aspettualità durativa no? un attante osservatore disteso lungo un processo temporale piuttosto che un vero e proprio sconvolgimento le vite posteriori e anche l'ipografia barocca cercano al contrario di contrarre questa aspettualità durativa in una aspettualità puntuale no? di trasformare l'attante osservatore cioè questo testimone astratto sulla conversione di Sant'Ignazio e di inserire dunque che cosa all'interno del racconto e soprattutto all'origine della compagnia di Gesù la meraviglia il miracolo perché tutto questo? beh ci sono diverse ipotesi ma insomma una è fondamentale Sant'Ignazio non compie nessun miracolo è un santo senza miracoli Pedro di Ribadenera lo dichiara e lo ammette apertamente nella biografia poi a geografia che accompagna il processo di beatificazione e poi di canonizzazione questo è un santo che non ha compiuto dei miracoli attenzione però lì c'è il genio retorico di Ribadenera insomma della compagnia di Gesù nella prima fase della costruzione del suo immaginario e Ribadenera non dice semplicemente Ignazio non ha compiuto miracoli Ribadenera dice ma guardate state cercando i miracoli nel posto sbagliato cioè nelle resurrezioni nelle guarigioni nei ciechi che non vedenti che riprendono a vedere eccetera eccetera ma questi sono racconti del passato questi sono miracoli medievali invece ci sono i miracoli ma sono dei miracoli moderni sono miracoli che non riguardano il corpo sono miracoli che riguardano lo spirito e dice Ribadenera sono ancora più difficili da compiere cioè il messaggio che si vuol far passare è che convertire se stessi e poi convertire anche gli altri ma anche attraverso il racconto della propria conversione è molto più miracoloso che la guarigione del corpo perché il corpo è destinato a morire il corpo è destinato a deperire il non vedente il cieco cui si restituisce la vista a un certo punto morirà e non vedrà più Nazaro risuscitato dovrà comunque morire di nuovo quindi diciamo il vero trionfo sta invece nel dare una vita spirituale a coloro che non ce l'avevano è lì che si compie il miracolo e tuttavia insomma sappiamo ci rendiamo conto anche noi che questa definizione di miracolo non è proprio mainstream diciamo non è proprio non si presta diciamo a racconti spettacolari perché i miracoli delle guarigioni miracolose delle resurrezioni eccetera eccetera saranno stati anche diciamo più rozzi meno sofisticati dal punto di vista teologico e però nella rappresentazione è come se generano attenzione come se generano seguito invece il miracolo spirituale è tutto interiore il miracolo spirituale non si vede soprattutto se poi si tratta di un miracolo la cui aspettualità non è quella classica del miracolo medievale lo scoppio il carattere puntuale la catastrofe positiva ma invece si traduce in un processo per cui qualcosa che è sostanzialmente molto difficile da raccontare in maniera diciamo retoricamente avvincente è ancora più difficile da spettacolarizzare nell'immagine perché l'immagine deve cogliere l'istante e l'istante non è diciamo la figura temporale tipica della spiritualità miracolosa o della miracolosità spirituale che diciamo propongono i gesuiti che propone di padere e allora si trova un compromesso il compromesso consiste nel costruire una rappresentazione puntuale spettacolare di un miracolo che invece tutt'altro che spettacolare che invece interiore perché insomma Rubens è più filologico ha a disposizione tante immagini costruisce una specie di diciamo storyboard della conversione di Sant'Ignazio in cui questa avviene progressivamente e si tratta però di un formato che per esempio non è quello che è a disposizione di Andrea Pozzo quando dipinge questo affresco nella volta del transetto della chiesa di Sant'Ignazio e lì deve scegliere un istante e allora come fare con una pathos formel si direbbe a Pivarburg si traspone il racconto visivo della conversione di Sant'Ignazio nel racconto visivo della conversione di San Paolo cioè la conversione più spettacolare della storia del cristianesimo il fascio di luce dall'alto la caduta di cavallo la cecità Gesù che piomba perlomeno spiritualmente su San Paolo neco di Tintoretto della conversione di San Paolo eccetera eccetera e questo consente appunto di diciamo convertire la conversione nella sua rappresentazione cioè di convertire quella aspettualità continuativa processuale che era tipica del racconto anche autobiografico di Sant'Ignazio e Loiola in una aspettualità che invece è di tipo puntuale allora ci sono moltissime rappresentazioni che compiono questa questa trasformazione tuttavia ecco la lettura semiotica sarebbe completa soltanto a metà diciamo così se si fermasse qui perché diciamo abbiamo fatto vedere attraverso questo discorso sul modo in cui la spettualità nel racconto autobiografico viene poi tradotta nella spettualità del racconto biografico però se vogliamo andare oltre dobbiamo anche porci una domanda che non è più soltanto una domanda la domanda del semiotico del testo ma è una domanda del semiotico della cultura vale a dire come mai si compie questa trasformazione sì c'è la necessità di spettacolarizzare la fondazione della compagnia di Gesù anche a beneficio delle immagini per la loro rappresentazione visiva però non c'è soltanto questo perché dietro il racconto autobiografico della conversione di Sant'Ignazio c'è una certa concezione del cambiamento mentre dietro per esempio questo affresco di padre Pozzo venne un'altra cioè l'ideologia semiotica del cambiamento che viene trasmessa attraverso questo affresco in cui la conversione viene rappresentata come qualcosa di dirompente è molto diversa e in effetti forse il lavoro più interessante da fare su questi testi dal punto di vista di una cultura delle semiotiche religiose è di sviscerarli dal punto di vista della opposizione tra ideologie semiotiche della religione in particolare del cambiamento spirituale ed è in questo senso che vanno molte rappresentazioni dell'epoca che utilizzano la figura dello specchio una figura sulla quale non mi sono dilungato molto oggi perché ho preferito parlare dello speculum in senso diciamo così paolino quindi metaforico teologico più che in senso appunto propriamente figurativo e tuttavia sullo sfondo c'è la serie di rappresentazioni in cui nel sedicesimo e nel sedentimo secolo la conversione di Maria Maddalena per esempio viene rappresentata con immagini della santa che si guarda allo specchio la specchio che però ricorre anche in altre rappresentazioni del volo per esempio quelle che ritroviamo nel libro della vita autobiografia spirituale scritta da una della santa l'unica santa canonizzata insieme a Ignazio di Loyola nel 1622 cioè Teresa Davida ricorderete che nel libro della vita la vida Teresa Davida dice racconta di questo episodio nel quale si trovava di fronte a uno specchio e lo specchio è diciamo un elemento molto affibolare molto ancipite nelle biografie soprattutto nelle autobiografie spirituali femminili della prima primo catricesimo moderno perché è lo strumento per eccellenza della vanità no lo specchio è diciamo la figura è il dispositivo di Narciso e però Teresa Davida racconta che si specchia ella che diciamo come Ignazio Loyola era un personaggio servantesco quindi era molto attratta da libri di cavalleria ma anche da libri di santità dove però si sognava come un'eroina e specchiandosi allo specchio vede che però la propria immagine nello specchio viene sostituita dall'immagine di Gesù Cristo uno specchio non specchio uno specchio che mente contravvenendo alla diciamo estromissione dello specchio di oggetti di pertenenza semiotica secondo Umberto Eco però si tratta di uno specchio metaforico cioè uno specchio prima utilizzato come strumento di vanità che diventa uno strumento di speculazione e rispecchiamento in Sant'Inanzio di Loyola trovate episodi simili che riguardano sempre il suo volto ma poi degli altri riguarderanno l'affigurazione del suo volto perché c'è tutta una tradizione ageografica secondo cui per esempio coloro che tentarono di raffigurare per primi il volto di Sant'Ignazio ovviamente contro la sua volontà perché il santo deve essere modesto non riuscivano a farlo perché questa è un'altra tradizione che viene da molto lontano i racconti di Eusebio di Cesarea sul messo inviato da Reac Bar presso Cristo al fine di ritrarlo e quindi la creazione di immagini prodigiose perché sarebbe stato impossibile raffigurare il volto di Cristo lo stesso succede nelle geografie di Ignazio dove appunto i pittori non riescono a rappresentarlo però poi alla fine rappresentandolo viene fuori come una specie di combinatoria di volti di Santi precedenti per cui il volto di Ignazio risulta sulla tela una specie di miscuglio del volto di Francesco con quello di Domenico con quello eccetera eccetera quindi diciamo c'è una insistenza su una specularità e slegge su una specularità anch'essa convertita su un volto che viene santificato nel momento stesso in cui risulta impossibile tradurlo attraverso un'icona e in tutto ciò c'è sullo sfondo un meccanismo che abbiamo visto all'opera in questa transizione da Rubens a Padre Pozzo cioè nel passaggio dalla vicenda spirituale e dalla sua narrazione autobiografica alla canonizzazione non soltanto in termini teologici ma anche procedurali ma anche in termini narrativi la costruzione di un canone narrativo e si compie anche il passaggio da una certa concezione della grazia ad una concezione della grazia che segue un'altra ideologia semiotica adesso non voglio tediarvi perché ho parlato tantissimo ma insomma se avessimo tempo e se voi aveste la pazienza di seguirmi dovremmo parlare del sistema teologico della grazia dei molinisti cioè la concezione della grazia propugnata da Luiz De Molina nel Concordia Liberi Arbitri con Grazie Tonis sul fatto che questo molinismo come veniva sottolineato o diciamo denominato soprattutto gli avversari crea un enorme dissidio all'interno della Chiesa Cattolica sulla diciamo istruzione da parte del l'ordine religioso dei Gesuiti della compagnia dei Gesuiti la partita da Claudio Acquaviva nel 1613 di quale dovesse essere l'insegnamento dei Gesuiti nei propri collegi nei loro collegi su questo sistema sul sistema molinista cioè in sostanza adesso non è che tutti dobbiamo per forza conoscere i dettagli della storia della teologia ma il problema della grazia consiste in questo cioè più si spinge sulla grazia e meno si tutela il libero arbitrio il problema però di spingere troppo sulla grazia nella teologia del Cattolicesimo è che se si spinge troppo si fa alla fine dei jansenisti cioè si arriva a diciamo come dire sfiorare concezioni del rapporto tra grazia divina e libero arbitrio iniziativa trascendente e volontà immanente che sono pericolosamente vicine all'ottica diciamo protestante sulla salvezza e allora la risposta dei jansenisti rispetto a questo dilemma è una risposta che deve diciamo proteggere la compagnia di Gesù dall'accusa di molinismo ma soprattutto che il molinismo sia una specie di versione come dire edulcorata della teologia protestante e di contraprovento però è necessario soprattutto nell'educazione che i gesuiti si distinguano per loro per le proprie idee religiose rispetto ai loro acerimi nemici da poterista teologico che sono i dominicani quindi sono tutta una serie di testi che vengono pubblicati in questo periodo testi teologici anche molto difficili da leggere oggi che portano poi alla costituzione del sistema diciamo teologico della grazia adottato e insegnato ufficialmente dalla compagnia di Gesù che è quello che deriva dal concetto di grazia congruismo una grazia che si adatta alle circostanze al contrario di una grazia incongrua allora il concetto di grazia congrua traduce il concetto di grazia efficace quello di grazia incongrua fornisce nuove interpretazioni dell'idea di grazia sufficiente che sono i due grandi elementi teologici della concezione della grazia che la grazia è tipica dei tomisti quindi i dominicani l'efficacia della grazia nel sistema gesuitico deriva dalla sua congruità in rapporto al recipiente e proprio nell'ambito di questa concezione i gesuiti tentarono di salvaguardare l'efficacia della grazia ma nel suo tempo introdussero una relazione di scelta fra la grazia e il libero ambito l'equilibrio fra l'eliminazione o lo sviluppo della grazia che era tipico dei pelagiani dei segni pelagiani dei molinisti estremi da una parte e dall'altra parte la negazione o la riduzione del libero arbitrio dei luterani dei carabinisti dei sostenitori di sistemi di Baio di Giansenio si conseguiva per i gesuiti proprio attraverso una tripartizione dell'efficacia della grazia cioè l'efficacia virtutis la capacità di volere e di fare è intrinseca sia della grazia sufficiente che di quella efficacia e non dipende né dall'azione della grazia né da quella della volontà libera poi l'efficacia connexionis fra l'atto e la grazia che dipende dal libero arbitrio perché secondo il dogma la grazia non è appunto irresistibile se fosse irresistibile sarebbe una grazia protestante ma può essere rigettata ogni istante e infine l'efficacia infallibilitatis che non si origina dalla natura fisica della grazia ma dalla prescienza infallibile di Dio la scienza media dei tonisti allora come ogni sistema teologico della grazia il congruismo fu sottoposto a numerose critiche da parte dei suoi avversari e tuttavia ciò che più ci interessa è la maniera in cui questa concezione ufficiale della teologia gesuita sul tema della grazia sul modo in cui essa che operi opererebbe nella mutazione dei cuori quindi nelle conversioni abbia potuto diciamo essere messa in scena dalle rappresentazioni postidentine della conversione religiosa come si può evincere del resto dalla storia dalle controversie teologiche dell'epoca sul tema della grazia soprattutto da quella della sesta sessione del concilio di Trento della congregazio di Auxilis che fu questa insomma assemblea decennali di più decenni sul tema della grazia che poi non fu risolto nel senso che poi fu dichiarato dogma della chiesa cattolica il modo in cui la geografia e l'iconografia raccontano la conversione di Sant'Ignazio e ne fa non solamente un modello di conversione a partire dalle sue note autobiografiche ma anche una sorta di dimostrazione narrativa delle idee teologiche sostenute dalla compagnia di Gesù il colpo di bombarda ricevuto da Sant'Ignazio i libri che gli furono dati durante la sua convalescenza rappresentano un esempio eccellente di grazia congrua cioè di una grazia che si piega secondo le necessità dettate dalle circostanze e per mezzo della prescienza divina sa che il modo migliore per convertire un soldato desideroso di gloria militare è quello di introdurgli nell'animo l'idea di una milizia ancora più gloriosa cioè quella dei santi e come spiegare allora il cambiamento di rotta tra l'immagine di Rubens e quella di Pozzo e probabilmente questo cambiamento o perlomeno molto di questo cambiamento si deve alle conclusioni cui la congregazio di Auxilis giunse subito dopo l'anno di bietificazione di Sant'Ignazio di Loyola cioè nel 1610 per evitare che i dominicani fossero chiamati apostrofati come luterani dai gesuiti e che questi ultimi venissero apostrofati come pelagiani dai primi si suggerì sostanzialmente agli uni e agli altri di abbassare il tono della polemica teologica di fare qualche concessione all'avversario e lo sviluppo del sistema congruista può essere considerato appunto come una di queste concessioni l'immagine di Pozzo una trasposizione visiva del modo in cui la teologia gesuita aveva smussato il primato della volontà all'interno del proprio sistema teologico della grazia il sistema teologico gesuita della grazia era l'inizio almeno nella versione molinista molto volontaristico e invece trasformare Sant'Ignazio in una specie di San Paolo nell'affresco della chiesa principale dedicata a Sant'Ignazio a Roma dove si raccontava l'episodio della sua conversione era sostanzialmente un messaggio di distensione diceva ma guardate alla fine il nostro fondatore si è convertito sì per sua volontà come di come dice nelle note autobiografiche come racconta Pietro di Badeneira però in fondo la grazia è quello che conta questo questo fulmine questa saetta che arriva da una dimensione trascendente e che lo coglie di sorpresa allora nella trasposizione fra il nitido linguaggio verbale dei teologi e dei filosofi e quello opaco delle immagini e le seconde poi come abbiamo visto finiscono spesso per esprimere un contenuto proprio a volte radicalmente differente da quello di partenza c'è una specie di come dire sottolineatura anche eccessiva del carattere di rompente della grazia in questo in questo affresco di padre Pozzo e allora al fine di questo seminario su le autobiografie spirituali sulla conversione religiosa sulle ideologie religiose sui sistemi teologici che reggono queste rappresentazioni sullo specchio che ricorderete in Lottman il grande dispositivo della divisione fra sistemi ideologici diversi termino lì dove ho cominciato citando anche una volta Dante questa volta dai versi del fiore al buon amico e a bella accoglienza rende grazie mille e mille volte vi ringrazio molto moltissimo per la vostra pazienza attraverso questo percorso un po' difficile me la rendo conto a per la vostra pazienza per la vostra pazienza